Noi sappiamo che durante l'estate c'è stato tanto movimento che ovviamente tanti contatti anche che riguardano anche i ragazzi che adesso torneranno a scuola e perciò abbiamo deciso di accompagnare questa attività che ci sarà nelle prossime settimane con uno screening che partirà sin da subito nelle nostre scuole per garantire una maggiore sicurezza ai nostri bambini, ai ragazzi che adesso torneranno nelle aule scolastiche. Per avere un quadro innanzitutto per capire qual è la situazione e per questo è previsto questo screening per le prime quattro settimane dove avremo due test la settimana, due test nasali con i soliti test che nel frattempo sono anche approvati diciamo a livello statale diciamo come test standard approvati e questi saranno diciamo poi adottati ovviamente come una misura con una partecipazione volontaria. Noi adesso facciamo questa attività di screening proprio perché adesso diciamo non abbiamo nessun dato, non sappiamo dopo le ferie qual è la situazione nelle famiglie, noi diciamo non abbiamo dati per avere abbastanza sicurezza diciamo come inizierà l'anno scolastico, qual è il rischio che avremmo nelle classi. Siamo purtroppo tra le regioni con meno vaccinati nella popolazione che può essere vaccinata e questo ci preoccupa molto. ci sono ancora troppe persone che non si fanno vaccinare. Il fatto che addirittura ci sono persone che si autolicenziano solo per il fatto che dovrebbero avere il green pass diciamo per il proprio lavoro anche questo diciamo è sconcertante. Io non posso fare altro che dire che far leva su quelle che sono decertezze scientifiche e sono quelle e poi dico da cittadino ovviamente basta guardare i nostri ospedali chi si trova in ospedale e si sa che il tema è evitare che avremo ancora di nuovo tantissime persone in ospedale perché quello avrebbe conseguenze grave per noi tutti.